Nuovo appuntamento con Meta, il primo meeting di Accademia Teatrale Europea. Siamo con Pascal Lecocque che ha presentato uno spettacolo intitolato Viaggio attraverso una pedagogia. La pedagogia è la pedagogia di Jacques Lecocque. Quindi le chiediamo come si è sviluppato lo spettacolo e su che cosa hanno lavorato i ragazzi. Per noi è stata una prima esperienza. L'importanza è che non l'abbiamo presentato come un spettacolo, non è stato presentato come un spettacolo, è stato presentato come una dimostrazione, una lezione aperta tra... C'è attraverso le maschere che si lavorano nella scuola a Parigi. E abbiamo anche dei nostri allievi nostri che erano con noi. E abbiamo visto che era importante di fare partecipare in qualche forma a questo evento. Perché c'era una parte che era di analisi di movimento un po' più precisa. E abbiamo provato di mostrare delle intervenzioni con i gruppi, con diversi numeri di allievi, di attori, attraverso la serata. La maschera larvaria, il clown, la maschera neutra, ovvio. E per le cose un po' più precise, abbiamo detto che c'erano i professori... perché questa serata non è stata preparata, non avevamo avuto il tempo di preparare qualche cosa per questo viaggio sulla pedagogia della scuola. Dunque abbiamo fatto un po' una miscela tra quello che gli insegnanti possiamo mostrare un po' e quello che gli allievi, quando sono arrivati direttamente dal loro paese, hanno potuto provare un po' prima del spettacolo, della serata. Ecco, che lavoro viene fatto alla scuola internazionale Jacques Lecocq? La scuola viene definita come una scuola di creazione che è basata su, al principio, il movimento che è basata su il lavoro del movimento e l'observazione della vita attraverso la natura, attraverso la città, la natura. Ma anche al servizio delle arti, non solamente l'associazione della natura, ma anche prendendo appoglio su tutti i tipi di arti, pittura, scultura, architettura, eccetera. Ultimissima domanda, da che cosa si riconosce che un attore è francese? Qual è la particolarità degli attori francesi rispetto agli attori delle altre nazionalità, degli attori europei? Il problema è che noi non siamo definiti come una scuola francesa, come una scuola internazionale. Abbiamo fatica di dire che siamo una scuola francesa, non possiamo dire questo. Anche è una scuola che non viene subvenzionata dal governo francese, è totalmente privata, allora è in Francia, a Parigi.